Lettura, Vangelo, e commento. Dalla lettera agli ebrei. Dobbiamo dunque temere che, mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. Poché anche a noi, al pari di quelli, è stata annunziata una buona novella, purtroppo però ad essi la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti nella fede a quelli che avevano ascoltato. Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò che egli ha detto. Sicché ho giurato nella mia ira. Non entreranno nel mio riposo. Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in qualche luogo a proposito del settimo giorno, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le opere sue. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. Poché dunque risulta che alcuni debbono ancora entrare in quel riposo e quelli che per primi ricevettero la buona novella non entrarono a causa della loro disobbedienza, e gli fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo in Davide dopo tanto tempo. Oggi, se udite la sua voce. Non indurite i vostri cuori. Se Giosua infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato, in seguito, di un altro giorno. È dunque riservato ancora un riposo sabatico per il popolo di Dio. Chi è entrato infatti nel suo riposo, riposa anche egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, e sa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vuoi creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto. Poché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha attraversato i cieli, Gesù, figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Dal Vangelo secondo Matteo, citato nel responsorio dell'ufficio delle letture, Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo, Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo. Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo, è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro, Avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parola del Signore Lode a Teo Cristo Commento Ciao a tutti e ben ritrovati qui su Via della Fede. Vedremo come in questo Vangelo sarà possibile fare un balzo avanti nella conoscenza di ciò che allora era considerato Dio e religione. Cominciamo subito con il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, oh Santo Spirito, nelle nostre menti e nei nostri cuori e concedici la tua intelligenza, perché così possiamo comprendere meglio il Padre nostro Celeste mediante le parole del Vangelo. E Padre, concedici anche oggi il tuo amore, perché siamo bisognosi. Bene, in questo Vangelo possiamo scorgere degli elementi che sono davvero di fondamentale importanza. Il giorno seguente, dopo quello della parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo è risuscitato dai morti, così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. E Pilato disse loro Ecco, dobbiamo guardare come non soltanto gli apostoli sapevano che Gesù sarebbe risorto, ma addirittura questa voce era arrivata al popolo e dal popolo ai capi dei farisei. La notizia dunque che Gesù da lì a tre giorni sarebbe risorto era una notizia che la conoscevano, che la conoscevano tutti, ma come la interpretavano? Beh, ognuno a modo suo. Il popolo che guardava Cristo era deluso, perché fondamentalmente aveva preso quella parola non alla lettera, ma come una parabola, come qualcosa che forse non sarebbe mai accaduto, perché inconcepibile come pensiero. Mentre coloro che erano contro, i farisei, i sacerdoti, come prendono la cosa? Beh, la vogliono tamponare. Cerchiamo di fare questo perché così questa cosa non succeda. Un modo di agire fortemente umano. E poi c'è Ponzio Pilato. Come agisce a questa questione? Beh, come ha sempre fatto. Se ne lava ancora una volta le mani dicendo avete una guardia, vedete voi, fate voi. Ecco, possiamo, per riportare questo Vangelo alla vita nostra di ogni giorno, cercare di comprendere con quali occhi guardiamo il Cristo. Siamo un popolo deluso? Siamo quei farisei che cercano di tamponare questa resurrezione? Siamo Pilato o forse siamo qualcuno che dà fiducia per fede ottenuta, dà fiducia a Dio e crede fortemente in quelle parole. Ecco, questa forte delusione nel popolo di Israele porta a una grande confusione e questa grande confusione porta alle più svariate interpretazioni. Oggi però di fatto regna il silenzio in tutta la creazione. Gesù giace morto nella tomba e non ci sono celebrazioni nei tempi liturgici. Dio, il Creatore, è realmente morto per le sue creature, è realmente morto per noi. Davvero un mistero dei misteri davanti al quale è necessario prostrarsi in attitudine di adorazione e sottomissione. Questo grande silenzio del sabato però non è un silenzio sterile, è quel silenzio prima del grande salto, è quel silenzio prima dell'impresa, è un silenzio che dentro di sé porta un seme che sarà in grado di fecondare l'intera creazione perché Dio scende sul mondo e muore per gli uomini ridando a loro una vita che era stata persa. Ecco, qui signori miei c'è il passaggio, c'è un affidarsi completamente a Dio, un lasciare che Dio nelle nostre vite per mezzo della fede ci conceda un cambiamento che è un cambiamento radicale che ci porta dalla morte alla vita, che ci porta per mezzo di una resurrezione in un paradiso che aveva fino ad ora le porte chiuse. Ed ecco che il sabato santo quindi è un momento di silenzio per ognuno di noi e di introspezione che possa quindi portare fecondità nelle vostre vite, alle vostre famiglie e che la benedizione di Dio discenda su tutti voi. Grazie di essere stati qui con me questi minuti, ricordatevi se potete un pollice in su che Dio vi benedica ancora e ciao a tutti qui da Via della Fede e ci vediamo domani. Se questo video ti è stato utile ti chiedo di iscriverti al canale mettere un like e condividerlo con i tuoi amici. Grazie e a presto.